Allora, si allunga la nostra striscia di sconfitte, abbiamo perso giustamente, meritatamente anche contro il Bedizzola, mi dispiace perché abbiamo secondo me fatto un buon set, siamo sempre rimasti lì alla pari punto su punto e poi dopo dal 18 in poi abbiamo cominciato a essere un po' più precise nel servizio e siamo andati via. Poi nel secondo set non so bene cosa è successo ma mi è andata la sensazione che ci fossimo un po' accontentate, non so mi sembra che si abbia un po' avuto la presunzione che fosse facile la partita e invece loro molto brave a tirare su tutte le palle, a rimetterle sempre, a riattaccarle e in quel secondo set praticamente loro hanno riacquisito tutta la fiducia che abbiamo perso magari al termine del primo set mentre noi siamo andati poi indubbiamente in dubbio. Da lì il terzo e il quarto set c'è poco da dire, loro sono stati sempre superiori a noi, noi siamo sempre stati legati un po' troppo sull'errore anziché andare sulla palla successiva, non riusciamo a tenere la testa davanti alla palla e quello è il problema, cioè viviamo troppo quello che è accaduto. Tecnicamente devo dire che abbiamo subito molto in ricezione, siamo diventate imprecise e da lì siamo riusciti poco ad attivare i nostri centrali e questa è stata un po' la chiave tattica della partita o comunque degli ultimi due set. Dobbiamo comunque comprendere in che periodo siamo, noi non abbiamo l'opportunità di rifare una preparazione quindi stiamo praticamente riattivando un po' tutte le ragazze mentre giochiamo le partite quindi ci vorrà del tempo e queste partite vanno un po' viste in quest'ottica nella speranza che nelle prossime tre partite riusciamo comunque a requisire un po' più fiducia per poi arrivare ai playoff e fare un altro tipo di pallavolo.